Benvenuti ragazzi io sono Alchisius e oggi siamo qui con Squid00 su Super Mario Galaxy Map Minecraft Con colui che cammina sulla neve Con colui che cammina sulla neve perchè gli ha snow main paints Snow leggings Snow leggings Quello che è, stiamo salendo una scala e non ci apriamo neanche dove Oh io ho 4 blocchi d'oro nell'inventario Io ne ho 1 Ok ce l'ho fatta Oh così eravamo a 10 siamo a 15 ne manca 1 Davvero? Sì aspetta ne manca 1 e abbiamo ancora 2 dungeon da fare Questa cosa mi piace Questa cosa mi sa che abbiamo barato fin dall'inizio Squid Eh appunto Mi sa che forse quei blocchi lì erano da fare esplodere Sì Quelli che abbiamo preso prima Sì Oh vabbè Capita eh Ma sì noi li facciamo comunque i dungeon ragazzi Nelle ceste mi sa che non troveremo neanche un blocco d'oro Perchè già che c'è una cesta là in alto Oh ma si sale ancora per tanto perchè io mi sto sfrecassando Eh non lo so Finito Finito Due blocchi d'oro What? Se così ne abbiamo 17 Abbiamo finito la mappa Sì Ma qua Guarda aspetta che mi tuffo in acqua Ah no l'ho vista l'ho vista l'ho vista Cazzo non ho preso l'acqua Aspetta che mi tuffo in acqua Boom Cazzo non ho preso l'acqua Sì effettivamente L'ho preso a piedo Il ghiaccio non si vede tanto Eh appunto E non cadere giù Beh che tanto ho Federful in 4 quindi vabbè Certo È una M di Mario con le mele d'oro Ecco la maggioranza te la lascia a te Se no fai Fai doppio click che te l'ho preso Sì l'ho preso Allora rimane Il dungeon Quello Cazzo Quello la piramide con il fuoco Oppure rimane il dungeon Quello dell'ossidiana Quello di Bowser Junior Robot Reactor Ci Oh 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 Sono già morto So come Sono già morto Non ha funzionato il coso Cosa Non ha funzionato il Il Command Block No no ha funzionato Solo che c'era il ragno Che si ha lanciato No a me no A me non ha funzionato A me si Perché ero io più vicino Perché lui pensa che la mappa Uno la gioca da solo E quindi mette che funziona Quello più vicino Ah aspetta allora Andiamo insieme Tipo tu clicchi E dopo arrivo anch'io Che Ok Noi mi te trasporti in automatico Sì però Voglio capire Dov'è che c'ha te ritrasportato Perché io non vedo nessun ragno Che prima mi ha fatto cadere Aspetta ma Ti sei già Tresportato tu No Aspetta un attimo Cario Perché stai cercando Di pescare No no volevo prendere Il Command Block Con la canna E la pesca E vedere se mi facciate Le trasportare Vai andiamo Ok adesso funziona Guarda dove sono io Dove sei Eh quello è successo A me prima Ok adesso sei tornato qui Eh Oh eh si Qui ci sono un po' di Oh oh non l'avevo visti Allora anche di Anche di qua Anche di qua Anche di qua Perché lo rompo con l'arco Perché siamo a Acab Oh qua ne hai lasciato un altro Dove 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 Ah di nella la Oh altri due Sì ma su tutti Oh cosa è successo Oh che Ma che Con calma Sì Che qui facciamo un movimento Sbagliato e moriamo Eh non mi dire Cos'è che dice Don't let the portal Suck you in Ah non lasciare che il portale Di teletrasporti Eh facciamo Ah di qua Ah ok Qua Ho preso Spada in diamante E blocco d'oro Ma c'è un teleport qua Ah ha già finito il dungeon Back in più intersection No no io voglio andare No voglio andare in cima C'è sicuramente qualcosa in cima Appunto Ehm Salta Ok Oh abbiamo trovato anche un altro blocco d'oro Qua c'è una scala appunto ecco Tra un po' lo completiamo due volte Eh te l'ho detto C'è la dinamite sopra Cazzo Io ho l'accendino Dopo facciamo saltare tutto dai Oh occhio Oh mio dio Cos'è che dice escape route Ah blocco d'oro Ancora E l'accendino Stavolta Ok Dopo accendiamo Io direi Azioniamole E scendiamo giù No aspetta Voglio andare in cima Cosa c'è Ok C'è questo imbran... Oddio No 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 Vai via Vai via Vai via Vai via No Spawner di creeper Non sono spawnati Perché non sono spawnati Perché forse è giuro Ehm Dove ci possiamo buttare Di sicurezza C'è lì la cosa Dove? Lì al centro c'è un buco Ah al centro c'è un buco? Eh sì E come si prende? Eh Riandando nella zona qua Piena di dinamite Ok Ehm Preparati Certo Cazzo Ci abbiamo fatta Oh 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 È esploso il ma... No le scale Aspetta Le rimetto Ah ce le hai Ho una canna da pesca anch'io Guarda che tolgo anche questa Tanto c'era qua giù la zona per andare È stata una figata assurda Manca il dungeon della sabbia E poi abbiamo finito in pratica Eh sì sì Ok io direi Che c'è tanto fuoco e fiamme Aia 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 Oddio Oddio Tanti danni Faccio l'arco poi Ok Posso smettere di pigliare fuoco Grazie Allora Allora Incianto Incianto una palla di neve Gli va Non posso inciantare la palla di neve Delusione Ho trovato una specie di stradina Ho trovato una specie di stradina Oh cazzo Basta C'è uno spawner di ghast Oh Cosa? Io quitto Cosa? Io quitto Dov'è lo spawner di ghast? Aspetta che sto tornando da te Vieni E io ho l'arco eh Ti ricordo È fattibile Eh però Dobbiamo distruggere lo spugno Eh lo so Lo so che è fattibile però Cioè solo a pensare che Dobbiamo farlo Andiamo 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 Eh è stato più semplice del previsto Un altro blocco Uh fuoco per l'armatura di maglia No scimbo Spruzzerai di gioia Che bello Spostati Ma io ho le mele d'oro E io ho i blocchi di glow Sono tante Non farmi morire Non farmi morire Non farmi morire Pozione Prendi la pozione di resistenza a fuoco Noi dentro Eh ma Tanto non Io non ho più po' Non dovrei morire Qui c'è un'armatura di oro Con protezione Contra colpo La spada la prendo Vai Prendi anche l'altra pozione Che io non ho già preso Magari aspetta Uso una pozione di resistenza al fuoco Appunto vai Guarda come è bello Avere la resistenza al fuoco Ma non ti fai niente No No niente Io posso nuotare nella lava Bene Fuck yeah Faccio anche luce Faccio anche luce Faccio anche luce Altro che dynamo che cammina sull'acqua Noi non siamo nella lava Sto ancora prendendo fuoco Oh una cesta Cosa ha fatto Ho sentito dei blocchi Ops Ma sento solo io Oddio mio Oddio mio Ho visto cosa ha fatto Ho visto cosa ha fatto Tanto resistenza al fuoco Eh si lo so però Eh si però Non me l'aspettavo Aspetta che qui c'è la stradina Per andare giù Ma dov'è la stradina Non vedo niente Eh c'è una scala Devi riuscire a prenderla però Ma perché hanno fatto Una cosa così malvagia Sto scendendo Sto scendendo Odiano gli esploratori Tipo noi Sì adesso cos'è Finito qua questo dungeon Che dungeon di merda Oh la nuova l'hai scelta tu No? Era bello quello di là Quello di Il di Bowser era l'ultimo Bowser giugno Era l'ultimo Ti credo È già finita Che palle Una mappa più corta E quanti blocchi hai? 4 Aspetta che metto io l'ultimo E così Si si aspetta Aspetta Si va A chiudere L'assi cosa devo sfruttare Ah aspetta no Tu intanto mettilo Si va a chiudere la serie ragazzi Nel modo più hackable possibile Vai a prendere la dinamite vero? No no Ed è così Che si va a chiudere la serie Squit arriva Perché io faccio esplodere il monumento Quindi No 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 Aspetta 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 Devi vedere però cosa sto per mettere Per renderlo più bello Cosa vuoi fare? Cioè perché noi abbiamo i soldi Cioè figa Guarda qua Big money Aspetta no Cioè se lo devi fare Fallo carino Ecco bravo E vedi Oddio mio Ma è fighissimo C'erano anche blocco C'erano anche blocco di labislazio Aspetta Sì ma di quelli Sampieni basta che torni A quello di prima Ciao No ok Questa è stata una tua genialata Te lo consiglio E così dicevo Ti conviene spostarti probabilmente Ma se io Aspetta voglio contribuire anche io Aspetta Ma se io piazzo questo Ho appena piazzato del fuoco Su una TNT Ti consiglierei No guarda Giuro non esplode Guarda Oddio Cazzo Esplode E così Un pezzo della nostra No 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 Con chi stai litigando Con il buco Lo vedrai Vedrai cosa ho fatto Vedrai cosa ho fatto Sì ho visto Sto dando fuoco a tutta la lana No no Ho dato fuoco a tutta la lana La sto dando anche io Aspetta C'è ancora l'accendino Aspetta 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 Oh si sta consumando tutto No guarda cosa Guarda cosa ho fatto Guarda cosa ho fatto Tanto abbiamo resistenza Guarda cosa ho fatto Guarda cosa ho fatto Torna su Eh Aspetta che muoio Voglio un Nobel Per quello che ho fatto Oh qui c'è una cesta Dove la cesta? Eh si Quella della prima puntata Ma perché c'è un blocco Di chi Nel tv? Perché l'ho messo io Ciao Ciao ti salvo Ti ho salvato Sono caduto giù nel fuoco E ho visto che sei caduto giù nel fuoco Sta ancora prendendo fuoco tutto Direi che non può finire senza un confronto tra me e Squid Giusto? Così? No 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 Sì Sì No È il vincitore Lo mi arresto Ma pare Tu non mi davi fuoco, ma tanto io avevo la posizione a direttore. Ah, bastardo! Ecco perché non hai perso! E purtroppo siamo arrivati alla fine di questa mappa. La prossima mappa sarà una mappa completamente parkour. No, 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 no. Tipo io ne avevo trovata una un tempo chiamata impossibile parkour. Che io lo facevo in teglia, no? Smettila! Che veniva effettuata la sottoscritta in mezzo. Non è l'è! No, mi hai dato fuoco. Ma mi fai spaurare! No! Che palle! Oh, ma perché non muori? Alleluia! Dopo sei morti tu e una mia. C'è quei blocchi di redstone fa il recinto, mi stai scherzando? Cosa stai facendo? No, 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 mi succedo io. No! No, vieni qua! Vieni qua! Ma il video vi... Sì, ok, ragazzi, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un piacere, iscrivetevi e noi ci vediamo in una prossima serie con Squid e magari Cece tutte e due insieme. Quindi, bella ragazzi. Ciao, saluta! Ciao! Ho trovato lo spawner, guarda, esatto, sopra, bravo mio. Fatto. Ah, ma, distrutto lo spawner? Sì. Vediamo. Qua, qua è libero, qua è libero. Sì, dall'altra parte, Cece, torna giù, torna giù, torna giù, torna giù. Lo spawnerà, guarda, è libero.